Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. Come tutti i santi giorni, il pastorello Girolamo percorreva stolto il sentiero che porta da Gerusalemme a Milano Sud, a cavallo della sua giumenta e accompagnato dal suo fedele greggio di pecore, che ormai era purtroppo ridotto all'osso a causa degli attraversamenti autostradali. Povere pecore mie, che strage! Dopo tanta fatica, Girolamo arrivò finalmente alle porte della città. Diglietto! Ecco lei, casellante! Gerusalemme? Sono 4.000, grazie! Lire? Cosa fai, furbo? Non credo di essere furbo! Ecco, allora sono 4.000 euro, pistola! Ai, ai, ai! Purtroppo sono sprovvisto di danari! Se vuole posso pagare in pecore! E tutto ciò che possiedo! Forse perché mosso a compassione, o forse perché asfissiato dal fetore del greggio, il casellante aprì la sbarra e fece passare il povero poveraccio Girolamo senza dazio. Dai, dai, vabbè, mi fai pena e mi fai schifo! Passa, Barbone, te e quelle fighette lì a 90! Dai, dai! Dai, dai, andale, andale, vai, terone maledetto! Tuttavia, poco dopo il casello, lo stulto venne purtroppo assalito da un gruppo di baby briganti. Ehi, rachitico! Dacci tutto quello che hai nelle tasche! Ecco, tenete! Ma non c'è dato niente! Perché non ho niente nelle tasche! Scemo! Vuoi fare il giro con noi? Festiamolo! No, bambini, no! Con ginocchio, Gianni! Con ginocchio! Il cacciavite! No, il cacciavite no! Dopo le percosse, diversi viandanti passarono di fianco al corpo martoriato di Girolamo, ma nessuno si degnò di soccorrerlo. Cosa ci fa uno stolto martoriato sul giro della strada? Cosa fa? Sta dormendo! Non è che sta male? Chiamiamo qualcuno? Sì, l'onetezza urbana! È buona questa! È buona, andiamo, andiamo! Ma ecco che da un cespuglio arrivò Padre Maronno. Padre, non mi ha pagato la fellazio! Metti in conto! E si avvicinò a quello che restava del suo pastorello. Girolamo! Vergognati! Lui si è fatto malmenare da un gruppo di undicenni! Alcuni di loro erano anche omosessuali! Non ti sono servite a nulla le lezioni di karatechismo! Ma almeno mi hai portato il pomodoro sacro! Sì, Padre, l'ho custodito dove nessuno poteva trovarlo! E dove? Nel dio Terretano! Bravo! Allora, prima di schiattare, c'è un'ultima cosa che devi fare! Hai capito? Sì, Padre mio! Attacca! Eccolo qua! E dopo aver recuperato il suo pomodoro, Padre Maronno tornò a casa e si preparò una gustosa insalata. Che buono questo San Marzano! Avete ascoltato la parabola del buon San Marzano? Sono un po' di merda! Marco, mi ridai il mio telecomando che hai questo dito? Aspetta allora che... E ci metto un po', dammi un pugno in pancia! Prego, prego! Dammi un pugno in pancia! Ivo, dagli una mano, infila la mano, vai! Vai, vai, vai!